Gaeta, a 40 anni si riparte con grande entusiasmo e con un'ulteriore sfida. Proseguire il percorso di rinascita che ha voluto Teramo dalla scorsa stagione? Sì, diciamo che per me è sempre comunque una sfida con gli altri ma anche con me stesso. Io lo spirito è sempre quello di competere, di dare una mano alla squadra col mio apporto. Quindi finché sarà utile io ci sarò, insomma. Poi sarebbe di nuovo Teramo in Serie B dopo tanti anni, quindi una grandissima soddisfazione di averla raggiunta l'anno scorso e adesso di farla. Grande orgoglio. Che campionato sarà? Siete nel girone che non è quello delle altre abruzzesi, vi confronterete con tante laziali e poi ci sono anche le squadre isolane. Sì, il girone sud dal lato del Lazio non lo conosciamo tantissimo perché in questi anni diciamo anche le amichevoli che si facevano, si facevano sempre con le squadre anche di Serie B però dell'Abruzzo. Sappiamo che la maggior parte delle squadre sono nel Lazio. Piano piano diciamo che partiamo senza fare proclami però ovviamente poi durante il campionato vedremo un attimino anche chi ci troviamo di fronte e cerchiamo di fare il massimo. Prima di campionato subito contro l'ex capitano storico del Teramo Gianluca Lulli ma soprattutto contro una corazzata. Sì, infatti iniziamo subito la prima partita davvero difficile in casa con Palestrina. Certo, Teramo incontrerà un po' il suo passato per il capitano Lulli e ci intufferemo subito in questo campionato, in questa nuova realtà e questa categoria. quindi saremo messi subito a dura prova e cercheremo di passare l'ostacolo.